Ciao, sono Francesca e benvenuto nel nostro terzo video sul GAPRF. Nel primo video ti ho raccontato cos'è un GAPRF, mentre nel secondo abbiamo approfondito la tua giornata insieme a noi, piena di attività stimolanti che ti permetteranno di vivere a pieno la tua esperienza all'estero. Adesso arriviamo al cuore dei nostri programmi accademici, che saranno lo strumento attraverso il quale raggiungerai i tuoi obiettivi linguistici, e non solo. Ti cimenterai lezioni di ultima generazione, parteciperai a lavori di gruppo assieme ad altri studenti provenienti da tutto il mondo, e potrai personalizzare il programma in base ai tuoi interessi. Puoi creare il programma perfetto per te e i tuoi obiettivi. Che ne dici se approfondiamo insieme tutte le possibilità a tua disposizione? Il programma accademico è quello più richiesto fra i nostri studenti, proprio perché dà la possibilità di approfondire vari aspetti della lingua. Viene articolato in lezioni di lingua generale, per consolidare le basi grammaticali e scrivere correttamente email, report, ma anche acquisire fluency nelle presentazioni. Sessioni progettuali, per imparare ad utilizzare la lingua in maniera professionale e pratica. Avrai anche dei seminari con relatori esterni rispetto ad argomenti di attualità. Inoltre, potrai personalizzare il piano di studi con materie di specifico interesse. Ecco alcune delle materie con le quali potrai personalizzare il tuo programma F. Arte e cultura, preparazione alle certificazioni internazionali, come Cambridge, IELTS, TOEFL, che potrebbero servirti anche per l'università. O sviluppo di una carriera internazionale, che comprende aspetti come linguaggio commerciale, linguaggio per ufficio, comunicazione professionale, banche e finanza, medicina e farmacia, e quindi categorie molto specifiche. Tra i nostri programmi abbiamo l'Advanced Diploma, un programma che ti consentirà di specializzarti in un ambito a tua scelta e fare uno stagio alla fine del percorso. Ecco i corsi a tua disposizione. English for Business, dove approfondisci tutti gli aspetti del business e del relativo linguaggio, affrontando tematiche quali leadership, marketing internazionale, management, presentazioni trattative d'affari e decision making. English for Fashion and Design, questo programma ti farà acquisire la capacità di intuire le nuove tendenze e il vocabolario specifico con il quale esprimerle. English for Media and Art, questo innovativo piano di studi unisce un corso di inglese ed un curriculum interdisciplinare relativo all'arte, al design, ai media e al mondo dell'immagine. English for International Affairs, dove puoi approfondire temi quali emergenze umanitarie, missioni di pace, economia, ecologia, eccetera. English for Hotel and Tourism, dove affronti i temi fondamentali delle attività di tour operator, agenzie viaggi, hotel e ristoranti. E infine, English for Health and Lifestyle, dove puoi perfezionare il tuo inglese, raggiungere una forma fisica e mentale ideale e preparare la tua carriera nell'ambito della salute e del benessere. Abbiamo pensato anche a chi ha le idee chiare e desidera frequentare l'università all'estero. Ecco il nostro programma di preparazione universitaria. Qui i valori aggiunti di un percorso con EF. Avrai l'accesso garantito in 230 università partner, un orientamento con un tutor universitario. Farai visite alle università e varie fiere. Otterrai tutte le certificazioni richieste all'estero e anche un supporto per una perfetta domanda di ammissione. Ma non finisce qui. Se hai voglia di esplorare più paesi e di imparare più lingue, abbiamo creato il programma giusto per te, l'anno multilingue. Si può partire tutti i lunedì dell'anno. Ecco qualche esempio. Potresti scegliere due o due destinazioni e fare sei mesi in USA e tre mesi a Singapore. Oppure tre destinazioni con tre mesi a Toronto, tre mesi a Parigi e tre mesi a Barcellona. Adesso che conosci i nostri programmi, devi solo scegliere quello più giusto per te e i tuoi progetti. Aspetta, forse hai ancora qualche dubbio. Pensi che le lezioni potrebbero essere noiose? Non sai in quanto tempo raggiungere risultati concreti? Hai paura che il metodo di insegnamento sia un po' obsoleto? Nel prossimo video ti racconterò come F abbia creato un proprio metodo di insegnamento pensato proprio per chi, come te, vuole sperimentare lo studio all'estero e diventare bilingue. Ci vediamo nel prossimo video.